colonnello cosa ha preso ma guarda il mio come giuliano apri un po' la sorpresa, sono 4 diversi, la bradaglia il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 e poi c'era un'altra architettura, come dice, che ha fatto un'opera, 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 per rendere le sale più importanti, anche più luminose, che erano collocate in alto, quindi ci arrivava molto facilmente la luce. Lì, da quella parte, in alto, c'era la sala del trono, la la luce... ... ... ... ... A Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.